Cerimonia all'insegna della sobrietà e senza pubblico questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri per la ricorrenza dei 206 anni di fondazione dell'arma. Oltre al Comandante Provinciale, il Tenente Colonnello Alberto Cicognani, c'era il Prefetto Angelo Sidoti. Dopo la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, sono stati ricordati i militari che si sono distinti durante l'anno. Come l'ha puntato scelto, Alfonso Sivoccia, in servizio al Radiomobile di Verbagna, che lo scorso 7 ottobre all'Aveno Monbello, libero dal servizio, è entrato per due volte in una casa in fiamme per salvare un uomo e una donna anziana. A lui l'encomio del Comandante Interregionale. Ricordati anche i Carabinieri di Stresa e Premosello, che a luglio 2019 avevano arrestato tre sudamericani per sfruttamento della prostituzione, riduzione schiavitù e violenza sessuale nei confronti di tre giovani venezuelane. I militari stresiani, nell'agosto dell'anno scorso, hanno anche arrestato un uomo che viaggiava in auto con una bambina di 11 anni e la madre della piccola, tra le accuse e l'induzione alla prostituzione minorile. Menzione anche per gli uomini del nucleo investigativo di Verbagna, che a gennaio, dopo un inseguimento, hanno arrestato una banda di ladri specializzata nei furti in casa. I Carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria, che sono riusciti a smantellare un giro di vendita di sostanze dopanti nell'ambiente del ciclismo e del culturismo. Infine, il plauso alle stazioni di Gravelonatoce Omenia per l'arresto di un novarese per la rapina di un'auto lo scorso 27 di maggio.